Seconda occasione per la città di Battipaglia con i fondi per l'emergenza alimentare. Sono circa 400.000 euro da destinare alla città della Piana del Sele. Occorre non ripetere quanto accaduto nella prima fase della pandemia. Infatti, lo scorso aprile il Bando aveva creato un Vespaio con tantissime polemiche con l'assegnazione solo del 50% dei buoni spesa con una proroga dei tempi di scadenza. Eppure restarono 60.000 euro che sono rimasti nelle casse dell'ente e non sono stati distribuiti. Ci furono anche le rimostranze dell'opposizione come quelle del capogruppo del PD e Gidio Mirre e di altri esponenti per quello che venne definito un pasticcio. A riprova di questo, Battipaglia fu tra gli unici enti in Italia che riuscì a non distribuire l'intera somma devoluta alle famiglie con difficoltà durante il coronavirus. In queste ore il governo Conte ha stanziato per Battipaglia ben 400.000 euro per l'emergenza alimentare per non essere impreparati. Ieri in Comune si è riunita la Tasca Forza Comunale con consiglieri di maggioranza e di opposizione. Si è discusso delle direttive per un bando preciso e snello per dare la possibilità alle famiglie di conseguire il bonus. Di questo ne discuterà nelle prossime ore la terza commissione, anche se ci sarebbe già l'accordo.